E intervisto a tutti quanti perché sono le interviste ecumeniche Le interviste ecumeniche, le interviste ecumeniche Presso l'NCC Studio Eccoci qua in una nuovissima analisi ecumenica 2.0 Io sono Elty Fresh, mi trovo presso l'NCC Studio E oggi siamo con Steven Let's go, siamo qui, grazie di invito bro Ok, Steven, abbiamo già fatto un'intervista ecumenica Però nell'intervista ecumenica non erano ancora presenti i documenti ecumenici E allora io ho preparato un documento ecumenico per te Non so se avrei paura o essere citato l'idea Ora vediamo, ora vediamo Iniziamo Ci sono Da una foto Ok Ho trovato una foto del 2019 Ok Che ritrae Steven Eccola qua Let's go Me lo ricordo Me lo ricordo Questa foto risale a un freestyle che ho dedicato solo a Instagram Arizona Freestyle Perché 2018-2019 c'era un trend Sì Il terrizona Quindi mi ero beccato un pomeriggio in zona A bere terrizona Ok Con una mia amica Federica che saluto Salute Che è una bravissima fotografa E mi fece degli scatti per quel freestyle Il video fu girato da Luigi Romano E devo dire era il mio periodo in cui non sapevo ancora che direzione stesse prendendo la mia musica Era un freestyle abbastanza hardcore Passato Ok Ci sta Ok ok Allora Nell'ultima intervista Abbiamo anticipato quello che siamo per analizzare oggi Esattamente Perché abbiamo parlato dell'EP Di questo progetto e tutto Infatti oggi analizzeremo Terra Terra Di Steven L'EP Terra è un acronimo Oltre al significato della Terra Del pianeta Terra Vuol dire anche Tormenti e ricordi rendono apatici E per questo EP è stato fatto un'opera d'arte Esattamente Che abbiamo qua Di fianco Guardate qua Opera d'arte ecumenico terrestre possiamo dire Guardate qua E hai qualcosa da dire riguardo questa opera? Ne vado tanto fiero perché è stata curata dalla mia amica Francesca Che ha la passione per la pittura sin dai tempi del liceo Lei è una mia compagna Cioè è stata una mia compagna di liceo Adesso è l'università Le nostre strade Ok Si sono separate Tra l'altro la cito anche nella terza traccia vorrei E mi ha fatto un quadro per raffigurare più o meno tutto quello che è il concept di Terra Si è un riassunto visivo Esattamente Infatti possiamo trovare alcuni elementi Io ci tengo un sacco al fatto dell'impatto che ognuno di noi lascia nel proprio ambiente Cioè non voglio essere un prodotto del mio ambiente Voglio che l'ambiente attorno sia influenzato dalle mie azioni Ok si Quindi qua c'è la mano verde su un pianeta sempre più grigio Che sta andando a fuoco Qui abbiamo il pianeta Parco d'Ora Dedicato a Parco d'Ora Ok Qui abbiamo tutti i pensieri legati alla traccia incubi soprattutto Sì è vero Il pianeta dedicato ad El tramonto all'alba che è la traccia d'amore del disco I fiori che sono un elemento che è sempre presente Questo è un altro pianeta vero? Sono tutti i pianeti questi Sono tutti i pianeti legati alle tracce Qua c'è il nome d'arte della mia amica Il nome d'arte è Filum Roo Tra l'altro lei ha pure un progetto che si chiama Arte Itinerante Ok Va in giro ad attaccare i disegni in tutta la città Passiamo alle P Ok Ora ti chiedo Com'è nato Terra? Com'è nato Terra? Allora mi ricordo che dopo il mio primo P concept Sì? Volevo trovare una mia dimensione sonora Perché il 2021 soprattutto è stato un anno in cui ho sperimentato tantissimo Sono partito con un singolo Boom Bap Ok sì Ho finito l'anno con un singolo New York Drill Sì è vero Era proprio un periodo di sperimentazione totale Lo ricordo Da lì avevo iniziato ad ascoltare sempre più musica Neo Soul Mi sono innamorato di Mac Miller Ok In maniera Allucinante Eric Abadu Tutto quel giro song querian Ok Allora ho deciso di Cercare di sperimentare un po' In quel senso Poi Una volta trovato Insomma Quello che era il panorama sonoro In cui volevo cimentarmi Era un periodo un po' così della mia vita Insomma Anche confrontandomi Cioè comunque Quando ti rendi conto soprattutto che Si invecchia no? Guardi i tuoi genitori Vedi che non sono più Quelli magari di dieci anni fa Ho capito Vedi la gente che vive attorno a crescere Mi son detto Crescendo non voglio che la vita Mi spenga Cioè Hai avuto un reality check Esatto Esatto Quindi mi son detto Tormenti e ricordi rendono patici Tu più vai avanti Più sembra che i sogni Che avevi da ragazzino Non esistano più Cioè ti ritrovi con solo Le cose concrete in mano Hai da badare giustamente Al lavoro Sì Hai figli Tutte le cose E ho visto che Questa cosa Comuna Quasi tutti 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 Perché poi Cioè la vita è un ciclo No? Tu invecchi hai sempre più Cose da fare Sempre più pressioni sul collo Mentre mi son detto Io vorrei lasciare un segno Anche se questa musica Magari rimarrà Nel mio computer O nelle cuffiette Di due o tre persone Voglio lasciare un segno Sì Vuoi esprimere anche Questo concetto Anche perché Questo EP Da quello che ho capito Ha due significati Nel senso Nel titolo noi abbiamo Terra Che rappresenta la Terra Esatto E che quindi tu Nel progetto In questo progetto Parli anche Sia a livello sociale Sì Che però proprio a livello Anche ambientale Si può dire Esatto Dei cambiamenti che ci sono Nella Terra E in più Parli anche Dei cambiamenti Che hai avuto te Sì Giusto Perché parli anche Del tuo passato Delle tue esperienze Esatto È proprio una Una trasformazione Perché Quello che ho visto Appunto Crescendo Hai sempre più Impegni Sempre più la testa Legata a cose materiali Sì C'è adesso Sempre più questa moda Di apparire Nessuno si fa vedere Veramente per quel che è Quindi ho voluto mostrare Aspetti del mio passato Che mi hanno portato Ad essere Quello che sono Soprattutto esperienze negative Tipo nella traccia Vorrei O comunque poi Ne analizzeremo Non so parlare Tutte più tardi E Mentre Terra Passando invece Da tormenti ricordi Rendono patici Invece proprio Il significato Del pianeta Terra È perché La musica mi ha permesso Di creare il mio Piccolo pianeta Quindi queste otto tracce Faccio un'analisi Non ecumenica Ok Un'analisi La facciamo oggi L'analisi ecumenica Non ti preoccupare Un'analisi Di quello che è il mio pianeta Quindi parto da Terra Quindi quali sono le cose Che non mi piacciono Perché penso che Per conoscerti Devi partire dalle cose Che non vuoi essere Incubi Che sono tutte le mie Varie paranoie Legate a vorrei Che è la traccia Sul mio passato Poi abbiamo Conseguenze Perché dal mio passato Ho imparato A fregarmene Del giudizio altrui Ho imparato A essere me stesso Indipendentemente Pomeriggi vuoti Perché a volte Quando sei te stesso Indipendentemente Ti ritrovi A fare i conti Con la realtà E spesso Quindi rischi Di trovarti da solo Quando sei te stesso Puoi essere anche Non capito a volte O puoi non capire Le persone Quindi il rischio Di trovarsi da soli C'è E poi le ultime tre tracce Sono quelle un po' Il bagliore di speranza All'interno della mia terra Perché Crescendo Mi sono reso conto Che quando hai La tua passione E le persone giuste A fianco Poi Indipendentemente Dai momenti no Dai momenti più positivi Comunque sai quello che vuoi Sai quello che stai facendo Esatto Cioè comunque Ci sono ups and down Però si continuano Andando Esatto Quindi in parco All'ora lo fai E in l'altramonto all'alba Parlo delle persone Che mi stanno attorno Da un lato Le persone che ho conosciuto Che sono diventate Proprio degli amici veri Grazie alla musica Dal tramonto all'alba La traccia d'amore E stavo giù Che riassume Tutto quanto il mio passato E dice da adesso Ok Vediamo cosa succederà Dopo questo Bello riassunto Che riassume la storia Partiamo con L'analisi specifica Di ogni traccia Volentieri E in più C'è una valutazione ecumenica Per ogni traccia Non so Se sai come è il format Ho visto quella di fatto Tu dovrai dire La tua valutazione Poi ci sarà La valutazione ecumenica Vediamo Quanto sono distanti O quanto sono vicini La valutazione E poi alla fine Valuteremo Valuteremo l'album Però prima di iniziare Con la prima traccia Mi sono segnato Che hai rilasciato Un freestyle Prima di far uscire L'EP Dove Nel freestyle Nomini ogni titolo Della traccia dell'EP E quindi diciamo Fai quest'altro Riassunto Per introdurre Per introdurre l'album Esatto Ok Iniziamo con la prima traccia Terra Che ha lo stesso nome Dell'EP Tra parentesi C'è pure La cronica Così uno lo capisce Ok Faccio lo shout out Al discorso di Mr. Robot Che hai messo alla fine Sul Matrix Su tutte quelle cose E ti chiedo Di approfondire di più Questa canzone Sì E questo concetto Del Matrix Ad esempio La società E perché hai aggiunto Proprio Mr. Robot Quel discorso là Partirei con Il motivo per cui Ho scelto di scrivere Questa traccia Perché appunto Come dicevo Nell'introduzione generale Del progetto Penso che Per capire chi sei Devi prima capire Cosa non vuoi essere Quindi io Mi sono guardato attorno Nel mondo Ho visto Determinati stili di vita Determinate tendenze Che Semplicemente Non facevano Non facevano per me Infatti nel ritornello È proprio ripetuto questo In loop Non fa per me Non fa per me Parlo Parlo dell'apparenza Parlo Della tendenza A non essere chi si è A mostrarsi per altre persone O voler per forza Assomigliare Ai propri idoli Mentre alla fine Gli idoli di noi stessi Dovremmo essere Semplicemente noi stessi Perché tutti quanti Abbiamo dei sogni Tutti quanti abbiamo Delle passioni Dovremmo rincorrere Semplicemente per il piacere Che questa passione ci dà Per il fatto che Siamo noi stessi Mentre facciamo Quella determinata cosa Quindi mi sono detto Io in un mondo In cui la maggior parte Delle persone Dà più attenzione ai social Rispetto alla realtà Le amicizie sono virtuali Oppure di convenienza Ovviamente è un discorso Che generalizza molto Cioè che generalizza Assolutamente Mi sono detto No io voglio essere Semplicemente me stesso Seguire quello che è il mio mondo E questa è la traccia Per accompagnarvi all'interno Ok infatti Facciamo una piccola menzione Di una barra di Steven Di questa traccia Coltivano la terra Dove tu cammini Con la plastica Con cui si fa i ritocchini Esatto Quindi non stupirti Dissa Kim Kardashian Esatto Eh un pochino Cioè quella tendenza lì E quindi non stupirti Se tu sei un prodotto Dell'ambiente Vivi solo per apparire Perché se coltivano la terra Con il botox Damn Ok Tu vivi per apparire Capito Ok Mentre tornando sul discorso Di Mr. Robot Non ho visto Mr. Robot Ok Però mi sono ritrovato Con quella traccia lì Mancava la seconda strofa Abbiamo fatto una session In studio Io, Milo E Tera Ok sì E lui mi disse Guarda c'è questo discorso Potresti aggiungere un discorso Guarda c'è Mr. Robot La serie E lì iniziamo a vedere Un po' di link Poi ho approfondito a casa E questo discorso Mi sembrava racchiudere Alla perfezione Ok Tutti i significati Che volevo dare all'interno Della traccia Quindi in realtà Non ho visto Mr. Robot Ma il dialogo mi ha colpito Veramente tanto Ho deciso di Di inserirlo È assurdo il dialogo Sì È un'ottima scelta Ok Che tanti scambiano Tra l'altro Per un dialogo di Rick e Morty Perché il doppiatore è lo stesso Quindi un botto mi ha scritto Grande Qual è l'episodio di Rick e Morty No bro Non c'è nessun episodio di Rick e Morty Ok No ma Questa Questa è anche una scoperta Che ho fatto io Io non sapevo posti di Mr. Robot Ah neanch'io prima di Quindi Cioè Bellissimo Ok Ok Votazione Stephen Votazione Che voto diamo alla intro Di questo EP Che cazzo ridi te? Il bot Che voto diamo? Che voto diamo? Io gli do un 8 Un 8? Un 8 Per entrare Sì Ok Il voto ecumenico Di questa traccia La traccia ha preso 6 e mezzo Ok Ok Passiamo alla seconda Incubi Incubi Ok Che è nel ritratto L'hai rappresentato alla sinistra Del ritratto giusto? Sì Da questa parte qui Tutti gli incubi Ok Fit Milo Esatto E Prod Milo Ho suonato Un accordo a caso Ok Paura del buio Esatto Un po' come da piccoli Di quale buio stiamo parlando? Il buio di quando Ti ritrovi a fare i conti Con Con le tue paranoie Con l'ansia La paura di non Fare al 100% Quello che stai facendo O di perderti E quindi L'abbiamo rappresentato anche tanto Nel videoclip Sì Ufficiale questa cosa L'ansia che ti rincorre sempre Questo groppone che hai Dici ma Quello che sto facendo Riuscirò mai a farlo Al massimo delle potenzialità Riuscirò mai Esprimermi Sì ansia da prestazione Se andiamo nello specifico Sì ho anche un po' La pressione che Che ti dà la società Questa dinamica del Farcela Però poi farcela Cosa vuol dire? Ne parliamo un sacco Io e Milo Di questa cosa Cioè per noi farcela Ad esempio E esprimerci Nel Cioè nel miglior modo possibile Con la nostra passione Ottenere dei risultati Che però non sono I numeri Non è per forza Una cifra Che ti metti in tasca E farcela Nel senso Sto facendo Al meglio che posso Quello che sto facendo E mi dà soddisfazione La domanda che faccio sempre io è Voglio fare successo Ma che è successo Vuoi fare? Esattamente Ci troviamo a fare Dei ragionamenti Per questa cosa qui E incubi esattamente Il riflesso Di questi ragionamenti qui Ho capito La gente se non vede Che tu fai determinati numeri Non ti esibisci In determinati posti Ti etichetta subito come Ah hai fallito Questa cosa Non è che ci mette pressione Però Potrebbe rischiare Da qui nasce incubi Quindi L'ansia di non farcela L'ansia di non riuscire Ad essere se stessi Di farsi influenzare Dalle situazioni attorno E noi vogliamo fuggire Da questi incubi Ok E il fit Quindi il fit con Milo È nato Primo perché voi facevate Questi discorsi insieme Esatto E quindi veniva E' un certo matico Diciamo che Io farei fit con Milo A vita Perché lui è stato Cioè proprio Un mentor per me E ci siamo trovati Perché Cioè lui mi ha visto Mi ha visto crescere Poi in realtà Questa è solo una sfaccettatura Di incubi Ci sono poi anche Incubi personali Legati a periodi Negativi Lui mi ha conosciuto In un periodo negativo Perché ero appena uscito Dall'ospedale Quindi diciamo che È una traccia Di rivalza Per entrambi Cioè di uscita Dei momenti no Quando la vita Ti mette davanti Dei momenti no Come può essere appunto L'ansia di cui parlavamo Ma semplicemente degli ostacoli Anche a livello personale Al di fuori dalla musica Devi correre Andare avanti Perché Chi si ferma È perduto Certo Chi si ferma è perduto Valutazione di incubi Steven Che voto dai a questa traccia Che è uscita in anticipo Esatto È uno dei singoli Uno dei singoli Che è anticipato con il video Allora che voto diamo Steven Io gli do Un sette e mezzo E te lo argomento Ok Gli avrei dato di più Solo che la versione live Mi piace troppo di più Live L'abbiamo Cioè L'abbiamo studiata alta Con l'autotune È più alta È vero Quindi alla versione live Darei otto e mezzo Allora la strofa di Milo È bellissima così Quindi per me La strofa di Milo È un otto e mezzo La mia Risentendomela come live Ti dico Live otto e mezzo Studio sette e mezzo Ti dico che questa è una delle tracce che è meno piaciuta La traccia ha preso sei Ok È piaciuto il testo a livello testuale e a livello lirico Però a livello di canzone non ha convinto Traccia tre Vorrei Vorrei Prod Sconforto Assurda sta roba Sconforto Che poi lo ritroviamo più avanti Sconforto Esatto In un'altra produzione Questa diciamo che è una delle più ben chilling Proprio chill questa Sì sì Si butti i momenti Da quello che ho capito Sono stati butti i momenti E farci di questa traccia Sì Approfondiamola perché sono curioso Diciamo che è una delle tracce di cui vado più fiero Per il significato Perché è proprio una traccia di rivalsa Cioè per me Poi parlando anche della mia amica Francesca Cioè sono stati anni difficili Che però ci hanno aiutato a diventare sempre più noi stessi Ci hanno aiutato proprio a crescere Perché ci siamo trovati in un ambiente Cioè secondo me gli anni della scuola sono difficili per tutti Poi c'è chi se li sa godere di più Stiamo parlando delle superiori vero? Superiori esatto Cioè chi se li sa godere di più Chi invece ne soffre un po' di più Io penso di trovarmi un po' nel mezzo Però mi sono ritrovato in un ambiente un po' In cui c'era una competizione tossica Ho capito C'era chi voleva andare meglio Sovrastare tutti Non si aiutava E quindi è più o meno la stessa cosa Della prima traccia Di quella competizione Esatto Che trovi sui social Però in questo caso tu l'hai trovato All'interno di un ambiente scolato Sì è tutto collegato Questa competizione non sana diciamo No Tossica Esatto Oppure magari c'era troppo focus veramente sul voto Poco sul fatto di costruire dei rapporti sani e veri Ho capito Lo dico senza Diciamo che le superiori non sono stati un periodo bello per te Esatto Come hai fatto? Cattaneo Al Cattaneo Scientifico Scientifico sì Perché? Solo lì si è Sì sì Che poi tra l'altro nella scuola a me fregava relativamente Perché io già facevo musica Le mie energie Il mio focus erano così tutti i pomeriggi Però Cioè nel senso Non c'era proprio un aiuto Anche tra persone che magari erano più in difficoltà Non parlo di me in prima persona Però Venivano molto Lasciati indietro Soprattutto se qualcuno aveva Circostanze personali Ok ma Stiamo parlando di bullismo O no? Un bullismo però velato Capito? Perché non è il bullismo del Ti rubo la merenda Ok Sì 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 Peggiore perché è proprio un Un essere lasciati indietro Sì Un venire esclusi 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 Proprio Mi piace che la traccia sia risultata chill Perché È chill Io non ora Cioè nel senso Io non ora ancora Io ho preso coscienza di questo periodo che è passato E sono tranquillo così So che anzi Mi è servito Sì ne parli al passato Però comunque tu Lo hai passato Esatto Vorrei Vorrei Dico nel ritornello Vorrei non averlo passato Sì Però poi con la tranquillità con cui Rappo tutto il pezzo Cioè dico Meno male che è successo E che è passato Ti rende Ti ha reso anche più forte no? Esatto Hai superato quell'ostacolo Ok Ben chilling Ben chilling Diamo Votino Votino votetto Che voto diamo? Nove 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 Damn bro Sono confident sulle tracce Damn bro Ok Vorrei Ha preso sette Ok Mi piace Per adesso è la traccia che Ha preso il voto più alto È stata apprezzata dal punto di vista musicale questa? Questa sì Bene Ritornello Tutto Anche il beat Il fatto che sia chill È piaciuto molto Sì Anche il Non so se ho usato un sample sconforto Infatti poi io lo chiederei Sì penso sia un sample vocale Un bel sample Sì sì Una bella vibe Ti racchiude A me la chitarra che ha messo nel ritornello e nell'outro Esatto È un bel mood È un bel tutto Sì sì Passiamo A conseguenze Sì Un altro singolo Prod sconforto Sempre prod sconforto Sempre che è uscita prima Sì sì È uscita prima E qua voglio dire una cosa sconforto Le drum Che drum sono? Vediamo se lo sai L'ispirazione 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 Io appena l'ho sentito ho detto What? Ha preso Sono quelle drum Sono proprio quelle Mi trovi Sono le stesse No le stesse Simili alle drum Di Black Skinhead Di Kanye West Ok Se tu senti Se tu senti la drum Le drum di quella canzone E senti come parte conseguenze La drum sono quelle Sono Drum di conseguenze Ora mettiamo Kanye West Black Skinhead È vero Expose Expose Sconforto Ti abbiamo beccato Ti abbiamo beccato Sconforto Damn bro Mi sa che qua Kanye West Però ci rimette Steven Quindi Vabbè su terra c'è anche Ah no Super Codero 5 Poi c'è un altro sample Qua mi sono segnato Vai Che riprendi La roba Che ha imbrattato Il muro della scuola Sì Perché l'hai già detto Esatto Quindi questa cosa È una cosa importante Spiegacela Il fatto che tu L'abbia ripetuto Sì È stato proprio Un bel momento Sempre con la mia amica Del quadro Francesca Perché ci siamo ritrovati L'ultimo giorno di scuola Di quinto Era Un'atmosfera Veramente festosa Perché tu C'è Hai finito la quinta superiore Sei fuori Quindi tutti Contentissimi Di non tornare più In quell'inferno lì No vabbè Però tutti stavano Organizzando feste Situazioni Ci siamo trovati Io Lei Altri ragazzi Così Che non erano stati Coinvolti In nessuna cosa O Non avevano organizzato Nessuna cosa Quindi ci siamo trovati Lì La prima cosa Che ci è venuta in mente Bello Steven Che poi ho detto Sono un coglione Perché Se cercano Non è neanche usato Un tempo Che però È stato Insomma Abbiamo coperto anche Delle scritte Dei fasci davanti a scuola Quindi è stato anche C'è Non è stato C'è È stato tipo tutto Ok ok Non aveva un significato Politico dietro Però Coprire una svastica È una È una croce strana Così è sempre Con Steven È meglio vedere Steven Esatto Con un cuore rosa fucsia Uno Steven davanti Ok E ancora No No Le hanno riscritte Ah Quei ragazzi lì Che E diciamo che Tornerò a scrivere Steven Diciamo che Il punto focale Di questa canzone Dimmi se sbaglio È il Meglio muoversi e sbagliare Che ser fair Esatto Esatto Sempre Fai di queste conseguenze Spiegaci un pochino La traccia Dico che le conseguenze Non le temo Perché Finché tu stai facendo qualcosa Sei vivo Quindi puoi sbagliare Però uno sbaglio È sempre meglio Che non far nulla Cioè sei sempre vivo Stai crescendo Non progredisci Se non fai niente Da uno sbaglio Puoi imparare Tu puoi fare un percorso Come può essere Un percorso di vita Un percorso musicale Qualsiasi tipo di percorso Da quello sbaglio Sai che avrai preso La strada più lunga Però proprio passando Da quello sbaglio Tu potrai rientrare Nella rotonda L'uscita giusta E andare a prendere Andere a prendere Quello che vuoi Sì sì E un'altra cosa Che ti chiedo è Come è nata Questa collaborazione Con Sconforto Cioè perché lui Ti ha prodotto Questa traccia Milo è stato il plug Ok Sì sì Il plugato Milo è stato il plug Perché avevo queste tracce Qui come vorrei E conseguenze Che erano state scritte Su Typebit Ok Mi trovo spesso A scrivere su Type Perché quando L'ispirazione chiama Sono i beat Che hai lì C'è una cucina Li hai subito Esatto Poi da lì Tendenzialmente Il mio processo creativo È questo Registro a casa Una demo Solo con le voci Ho il mood in testa Vado da Milo Tendenzialmente Abbiamo La traccia vocal Ah E ci costruisce Poi il beat E diciamo Costruiamo il beat Sulla traccia vocal Non è scontata E sta cosa Si è cucito Proprio alla perfezione Anche i rimbalzi Su certi accenti Che io metto nel flow Ok E quindi Stessa cosa è successo Con conseguenze Io avevo questa traccia Che aveva un mood Molto Taming Pala Cioè questo Typebit Aveva un mood Molto Taming Pala Tra l'altro L'avevo scritta un botto Di tempo fa Nell'estate del 2019 Ah Ok Ok Te la porti da tanto Quindi Non avevo la frase del muro Perché quella è stata aggiunta dopo Avevo un altro inizio Che ora non ricordo nemmeno Però me la porto da un sacco dietro Ok ok E non riuscivamo Anche Ci abbiamo provato più versioni Poi quando abbiamo detto Mettiamola in mano a sconforto È uscita subito Se l'ha perfezionata Non potrei essere più soddisfatto Sì sì Sono veramente Anzi Grazie sconfi Perché hai fatto un lavorone Torneremo a lavorare presto Ok Ok Che voto diamo a conseguenze Io do un 9 pure a questo Ok Conseguenze Molto piacevole Molto piaciuta Ha preso 8 Oh Nice Sì assolutamente tra le mie preferite Di tracce Sono troppo contento È bellissimo Cioè è piaciuto tantissimo Ha preso dei voti molto 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 positivi Il ritornello è molto bello La melodica Tra l'altro degli aneddoti Sul video che Sì Sì è stato rischiosissimo Uno dei video più rischiosi Ok vai raccontiamo Raccontiamo del video Volevamo fare qualcosa di Cioè Chiedesse proprio L'idea di libertà Cioè volevamo andare nella natura Farci i nostri giri Playback Sì sì Un po' reference Tyler The Creator Sì le vibes Sì riprendono quello È vero Esatto Quindi siamo andati a Salbertrand Col treno Ok E volevamo raggiungere un lago Di cui era non ricordo Neanche un nome Ma era abbastanza Imboscato Ok Sì sì Quindi ci siamo ritrovati a Un bivio Potevamo fare la tangenziale a piedi Però c'era gente che correva abbastanza Da quelle macchine Quindi con tutta l'attrezzatura Non ci sembrava il caso Sì 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 Carichi avete iniziato Madonna Ma no poi tutto ghiacciato Con le scarpe da ginnastica Non fatelo a casa Passiamo alla traccia 5 Delle P Che si chiama Pomeriggi vuoti Fit Simone O Sei Imone Prod Nova Che è il produttore Di sconforto Esatto Ok quindi tu Hai pluggato sia sconforto E sia il produttore Di sconforto Sconforto è stato il plug Sì sconforto è stato il plug Di conseguenza Perché stiamo lavorando a conseguenze Mi fa dai fammi sentire un po' di demo Abbiamo cillato da lui Salotto Mi fa fammi sentire un po' di demo Di cosa stai facendo Lui mi ha fatto sentire qualcosa Nel suo ultimo tape Sì Io gli feci ascoltare i pomeriggi vuoti Mi fa sai che questa potrebbe essere Nelle corde di Nova Infatti poi ci siamo beccati Abbiamo fatto le cose È stato molto figo Ok e com'è nato il fit con Simone Il fit con Simone Perché siamo compagni Che tra l'altro saluto Siamo compagni di università Ok Quindi Beccandoci Cioè in realtà ci siamo ignorati Per la maggior parte del tempo Il primo anno di Uni Poi saluto a Jacopo È stato il plug Tra me e Simone È tutta una questione di persone Eh sì I contatti I contatti portano contatti Esatto E quindi C'è stato questo incontro Tra me e Simone A casa sua Una sera Io non sapevo Praticamente chi fosse Mi sono ritrovato a casa sua Grazie a questo nostro amico in comune E lui ha uno stile Molto Molto figo Secondo me Fa Un bell'incrocio tra Classico rap Barre In italiano Però su strumentali jazzate Jazz rap Esatto Quindi rap Abbiamo fatto un po' di sessioni a casa sua Tra Playstation Beat Ok E un giorno gli ho mandato la traccia Mi fa Facciamolo finalmente Perché abbiamo avuto tipo Avremmo 4-5 demo Prima di pomeriggi vuoti Che abbiamo registrato Però questa era quella che Avete scelto questa qua Come anticipato In questa traccia parli della noia Diciamo Della routine Perché Ci siamo ritrovati molto Su questa cosa Che quando Cioè In due modi Abbastanza paralleli Però poi molto simili Ok Perché La solitudine Ti porta molto a riflettere Su chi sei Sì E ti porta a fare i conti con la noia Però anche quella Per quanto a volte possa sembrare La cosa più negativa del mondo Perché Non sai cosa fare In realtà poi ti aiuta a riflettere A far uscire L'ispirazione Tutte le varie passioni Diciamo è quella È quella piccola pausa Esatto Dove ricarichi le batterie Esatto Sì E poi Perché ne parliamo proprio Cioè È legata un sacco Gli anni della pandemia ovviamente Ok Sì Poi lui la riporta anche in un'ottica Essendo lui studente fuori sede Magari nei suoi pomeriggi Ah fuori sede Sì Lui del Della Abruzzo Ok Sì E quindi Cioè lui l'ha riportata anche In quell'ottica lì Quando sei in una città nuova Che magari non conosci nessuno Ti devi ambientare Io ho parlato un po' degli anni Del covid Tì Valutiamo Pomeriggi Vuoti Allora Pomeriggi vuoti Do un sette e mezzo Ok Perché Mi piace Ma avrei voluto mantenere la C'è una demo iniziale Che ha una bella melodia Nel ritornello Che riascoltando L'avrei potuto Includere Però la strofa di Simone Mi piace un sacco La traccia ha preso sei E il motivo È simile Il concetto che hai detto Del ritornello è tutto Quello è stato il motivo Per cui la traccia Ha preso sei Sì perché io faccio Poi un botto Ma come penso La maggior parte degli artisti Fai poi un botto Di autocritica Quando ti riascolti le cose Quindi In realtà Le strofe degli ospiti Mi piacciono un sacco No le strofe assolutamente No le strofe Oppure per pomeriggi vuoti Avrei aggiunto forse Una piccola melodia in più Nel ritornello E anche Parere personale Che mi è venuta ora Conseguenze In live Suona molto più energica È un'altra roba Poi mi piace un botto Che è tipo Con Slim Sì Soltiamo Slim Soltiamo Stiamo facendo questa roba Cioè lui ha tipo Il suo pezzo Che è il banger Tardi Dove io gli faccio le doppie E lui invece Su conseguenze Viene a farmi le doppie alte Perché lui ha questa Ha questa linea molto melodica Poi il range vocale È bello ampio Quindi riesce a raggiungere Delle note belle alte E su conseguenze Esce una figata Su conseguenze sì 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 È vero è vero Siamo arrivati Alla terz'ultima traccia Alla numero 6 Che si chiama Dal tramonto all'alba Produzione di Milo E questa Come hai detto prima È la traccia d'amore Dell'album Esatto È una lettera d'amore Vorrei dire Sì sì È proprio una vera e propria Lettera d'amore Sì perché Cioè non è una canzone d'amore Diciamo che è nata Perché volevo fare La canzone d'amore Ok Ma Sono tutte esperienze Cioè un'esperienza vera Che ho voluto racchiudere In una canzone Tutta un'emozione Che ho provato Durante la mia attuale relazione E mi hanno portato a scrivere Dall'alba Al tramonto Esatto Dall'alba Il tramonto E dal tramonto all'alba Perché Sempre E beh Se no che cazzo fai Poi dal tramonto all'alba Esatto Cioè Quindi sempre Cioè è stato È stato proprio bello Perché Diciamo che io Pezzi d'amore Così non ne avevo Mai scritti Ma perché Non ne ho mai provato Determinate cose No E mi piace perché Penso Da un punto di vista personale Si sente che è autentica Cioè si sente che Quello che dico Non sono le classiche Frasi d'amore Da bacio perugina È una cosa tua Ma è qualcosa di mio Che ho vissuto Con questa persona Che stiamo costruendo E Ma poi descrivi proprio Delle esperienze specifiche Quindi è proprio unico In quel senso Non è generale Che la puoi adattare Su più Esatto Cioè io parlo proprio di lei Parlo di esperienze Che abbiamo vissuto Stiamo vivendo insieme Assieme Certo Facciamo io uno shout out Come si chiama Leila Ciao Leila Valutiamo questa canzone Yes A questa le do nove Solo nove Allora Dai Sai perché Perché Anzi le do nove e mezzo Nove e mezzo Per il contenuto le do dieci Ok Perché è qualcosa di mio Sì E non mi sono mai aperto In questo modo In tal senso Certo Cioè sto vivendo Delle esperienze bellissime Quindi assolutamente Le do dieci del contenuto Ma anche questa dal vivo Nella traccia è stata registrata Un'ottava sotto Dal vivo la faccio un'ottava sopra Ah e ti piace E quanto mi gasa Infatti dovrò provarmene di più In sola prove Prima di andare a leccare Sì devi provare a fare più take Sì Con tonalità diverse C'è una traccia Penso sia la mia traccia preferita Del disco Insieme a conseguenze E a vorrei Vorrei Ok sì Esatto Questa secondo me È qualcosa di più particolare Rispetto alle altre Perché la base va Proprio in un altro senso Rispetto al resto del disco È qualcosa di più sperimentale È vero È vero Però l'avessi fatta alta Più che altro perché è molto personale È la tua storia È una tua storia C'è chi mi ha detto che riusciva a rivedersi Per quello era la preferita Ok Perché c'è Poi le sensazioni Io ai tempi Utilizzavo i suoi beat È troppo forte quel tipo Amine type beat Chaitranada type beat Smino Saba type beat Madonna È da anni che c'è questo produttore È assurdo Quindi Là in quel caso Tu prima mi hai detto Io prendo i type beat Sì E poi mi faccio rifare il beat Invece in questo caso Sì No in questo caso Mi hanno prendito così tanto Sì Sì che poi Quando li rifacciamo In realtà non ci basiamo per nulla Sul type Cioè noi prendiamo la voce E cuciamo addosso Sì Tutta altra struttura Infatti sarebbe poi figo Farti sentire Cioè non ce li ho sul telefono Però poi ti manderò I type Da cui sono nati Ah ok Cioè tipo vorrei L'ho scritta su un type beat Di Kendrick Lamar Che era Totalmente diverso Cioè sembrava quasi humble Anche Incubi Era stra diversa Mentre per questi Mi avevano colpito così tanto Che Non potevi farne a meno Esatto Era quello che basta Cioè Parco d'Ora Lofai È nata prima dell'idea del disco Sì infatti mi ricordo Parco d'Ora Lofai Già la cantavi È live Sì Perché l'ho scritta Di getto Così addirittura All'inizio doveva nascere Un feat con Kaijoski Su questa traccia Ah ok Perché gliel'avevo inviata Poi non so perché Ci siamo persi Tra una cosa e l'altra Sono andato a registrarla È uscita Dove essere banalmente Cioè banalmente no Perché è una traccia che Cioè rispecchia totalmente Il mood della nostra compagnia E tutto Dell'alternative rap Però doveva rimanere su Instagram Poi ho visto che Stava venendo apprezzata Sì molto apprezzata E quindi ho detto Non può restare lì L'ho pubblicato tipo Una settimana dopo su Spoti E quando poi è nata l'idea del disco Ho detto Nel mio pianeta C'è il Parco d'Ora Sì che Diciamo che questa traccia A mio parere Tra tutte le tracce che hai fatto È proprio la traccia che dice Noi siamo alternative rap Sì Cioè è proprio il manifesto Anche più ampiamente Di original artisti Se si può dire Perché nel video E anche nel testo Nomini praticamente I tuoi slime Che nominerai adesso Perché non mi ricordo tutti Vabbè allora Partiamo con L'original artisti fam Quindi abbiamo Milo e Zima Che non è nominato Ma che ovviamente Ok sì C'è Poi abbiamo Norman Abbiamo Zuzu Abbiamo Moore Abbiamo Kaijoski Abbiamo Obi Che adesso fa da DJ A Norman Tra l'altro Quindi shout out E loro sono Diciamo che Se a Milano Ci sono le ragazze Di Porta Venezia A Torino abbiamo I ragazzi del Parco d'Ora Eh sì Praticamente sì Anche perché Loro Io da quello che so Deep North Mafia Diciamo Esattamente C'è Kaijoski Proprio capi palestra Sì capi palestra Esatto Proprio loro Adesso Cioè da quel che so Stanno facendo ognuno I propri progetti singoli Però Deep North Mafia Esiste Esiste certo E tu personalmente Che rapporto hai Con il Parco d'Ora Con il Parco d'Ora Il rapporto che ho Allora diciamo che Io al Parco d'Ora Sono arrivato in ritardo Rispetto agli altri Ok Perché ho iniziato A frequentarlo Da poco Però è un posto Che mi è entrato Subito nel cuore L'ho scoperto Ho iniziato a frequentarlo Grazie a Milo Ok Perché questo è un aneddoto Che racconto sempre ai live Quando faccio gente pazza Al mio vecchio pezzo Poi subito dopo Faccio il Parco d'Ora Perché noi organizziamo Le jam in giro Prima di arrivare Al Circolo Banfo Lo organizzavamo in giro Per Torino E da Valdofusi Ci hanno sfrattato I carabinieri La famosa storia Che poi siamo arrivati Al Dora Che siamo arrivati Al Dora E da lì Cioè il mio rapporto Col Dora è stato questo Le prime jam nel 2020 Cioè arrivavano veramente Un botto di persone Anche da fuori regione Per i contesti freestyle Che abbiamo fatto Di ballo E tutto Poi da lì Siamo stati sfrattati In realtà Dalla polizia Pure dal Dora Sì dal Valdofusi E poi dal Dora Esattamente Perché ricordiamolo Che io avevo già Nella tua intervista Avevo messo l'articolo Avete fatto una jam Con molte persone Sì Adesso io non vorrei Sparare numeri a caso Però comunque Erano sulle 200-300 persone Che erano arrivate a vederci E poi Get the fuck out of here bro Eh sì ma Guarda perché C'era ancora il periodo In cui Stavano mettendo dei decreti Per Per evitare L'assembramento di persone E Cioè non era previsto Da noi che arrivasse Così tanta gente No ma infatti Ma infatti io me lo ricordo Perché Facevate la jam E chi c'era C'era Esatto Cioè si aggregava Non c'era nemmeno questa Cioè adesso magari Curiamo il tutto di più Locandine Sponsor Cioè lì era veramente Un messaggio su un gruppo E la gente si radunava Quindi C'era stata una piacevole sorpresa Salvo poi La battosta finale Però da lì poi Ho iniziato a frequentare Sempre di più Quel luogo Perché Tipo l'estate scorsa Ci beccavamo sempre Quasi tutte le sere Con Norman Poi è stato dal lato Delle rampe Esatto Dal lato delle rampe Portavamo una cassa Due birre Due barre E facciamo freestyle Tutta la sera Ci conoscevamo sempre di più Infatti Aspettatevi cose belle Da Dei ragazzi del Dora Valutiamo Parco d'ora lo fai Parco d'ora lo fai Do nove anche questa Ok nove Parco d'ora lo fai Ha preso Sette È piaciuta È una traccia che è piaciuta E comunque i risultati Li ha pure fatti Sì anzi Cioè È stato bello Perché molti produttori Anche rapper Anche di altre regioni Mi ha scritto Mi hanno propsato No ma immagino Su Instagram Mi è andata molto bene Sì La traccia Ha girato molto Ora passiamo All'ultima traccia Stavo giù Traccia numero 8 Stavo giù Prod Milo E Dario Simonetti Esatto Diz Ah Diz Ok No perché il suo nome di artista Non l'ho trovato Eh sì Perché evidentemente Lui aveva Aveva creato un profilo Instagram artista Però poi in realtà Ha sempre utilizzato Quello suo principale Personale Quindi Nomenarte Diz Però Dario Simonetti Con Milo ho iniziato a scrivere Con lui ho avuto Il primo rapporto Rapper-producer Perché mi produceva Tutte le mie prime tracce Ah lui Lui è stato Dal 2018 Poi adesso lui in realtà Causa università Causa mille impegni personali Ha lasciato un attimo Non ha lasciato la produzione Ok Ha un attimo un momento in cui Si sta concentrando Nel chilling Ok Ok Però Cioè Sempre fiero Sempre slime Dall'inizio Of course Delle cose che mi sono segnato Su questa traccia È personale Molto Anche questa Molto personale Chiude bene l'album Fa delle considerazioni E una delle considerazioni Che ho trovato È che Il rap Ti ha salvato Ti ha fatto sentire vivo Sì sì Cioè Eri in un periodo buio Eri in un periodo spaesato Sì E quella luce Che ti ha salvato È stato È stato rap Un piccolo aneddoto Vai Ricerca ecumenica Non l'ho detta all'inizio Me la sono tenuto Fino alla fine Per questo Vai Il rap ti ha salvato Quindi hai parlato Delle prime esperienze Rap Delle prime canzoni E io ho trovato La tua prima canzone La tua prima canzone È Stata fatta All'età di 13 anni E si chiama Il mio posto nel mondo Yes Mondo Terra E arriviamo a terra Quindi è tutto collegato Quando eri 13 anni È un ciclo Che si collega È tutto collegato Ok Parlaci Parlaci di questa traccia E di conseguenza Che tra l'altro La cito In questa traccia Il mio posto nel mondo Perché c'è una bar Dove dice Non lo trovo Il mio posto nel mondo Quindi Ok Yes Ok Questa si è una traccia Qui sono legatissimo Perché innanzitutto Chiude il disco Prende tutti i periodi Negativi precedenti E dice C'è lì a pallottola Non li mette Nel cestino di carta Ne mette nel cassetto Come dire Sono lì Esistono Ci sono Però grazie Perché mi ha reso Quello che sono Quindi Prima stavo giù Adesso Wow Let's go Gli ops ci volevano attaccare Adesso invece Cioè cammino Sulle mie gambe Proprio grazie Certo Grazie a quei momenti lì Sì comunque È una traccia che Si collega Proprio dai primi Cioè si collega tantissima A mio posto nel mondo Perché Ho iniziato a scrivere Proprio dopo un periodo In ospedale Che mi ha abbastanza segnato Vuoi raccontare Cosa è successo Per spiegarlo Sì Problemi di salute Che mi hanno Mi hanno portato A fare un'operazione Che mi ha tenuto in ospedale Per due settimane Ok Comunque a quell'età Non era stata Cioè non ne voglio parlare Come vittima D'arma Però quell'età Mi ha abbastanza provato Tra l'altro da qui Deriva la Il trattino di Steven Non è per altri motivi Che abbiamo già No assolutamente E quindi c'è una traccia Che ripensando A quel periodo Sì Veramente Sì sì No ma poi È bellissimo Il fatto che tu L'abbia messa per ultima Perché è come Che chiude un ciclo Sì Da quella prima canzone Che hai fatto Fino adesso Fino ad adesso Sì È un ciclo che si chiude Assurda sta cosa Sì E poi soprattutto Questa traccia Mi fa fare dei ragionamenti Sulla musica Cioè veramente pazzeschi Anche sul farcela Ok Cosa vuol dire farcela Quando poi la musica Già solo adesso Che non ho raggiunto Obiettivi Mainstream Come possono essere Numeri Di visualizzazioni O live Chissà dove Però se la musica Mi ha fatto conoscere Così tante persone Importanti per me Mi ha fatto superare Così tanti momenti Cioè Cioè stiamo facendo E il tuo successo È quello Sì Per il momento sì Poi quello che verrà Cioè Veramente lo faccio con passione Poi se arriverà qualcosa di più Sarà tanto di guadagnato Però mi sto godendo Veramente ogni passaggio Che Certo Che il percorso sta portando Ok Che voto diamo A quest'ultima traccia Per chiudere l'album Gli do un 8 Ok un 8 Questa traccia ha preso 7 Molto piaciuta E anche il beat Soprattutto Sì Ho avuto commenti positivi Sul beat Tra l'altro Aneddoto Questa traccia Era tutta Col pitch down Cioè avevo la voce Cioè avevo la voce pitchata Di due semitoni Quindi tipo Tyler The Creator Esatto Sì sì Ho capito Poi quando abbiamo rifatto il beat Abbiamo deciso No teniamola clean Lasciamo viaggiare la voce Come è giusto che sia Ok ok Voto finale dell'album L'album ha preso Un clean Pulitissimo 7 Che voglio dire Anzi Grazie mille Cioè mi fa Bisogna dire che I voti ecumenici Sono Sono Mi ricordano quelli Comunque meglio di quelli Dei miei professori Da liceo Ok ok Allora già quello Già mi piace Ok no Ha preso un bel set No infatti Soddisfatto Cioè è un album Che mi sta dando Molte soddisfazioni Appunto Cioè nel mio piccolo Vedo che sta piacendo Quando lo porto in giro live Ho tante persone Si stanno comunque ritrovando O nel complesso del disco Comunque tutti hanno trovato Una canzone Che Parlasse veramente A loro Quindi Quindi quella è già Una bellissima soddisfazione Ok Ultime domande che ti faccio Vai Autoanalisi Qual è stato Il tallone d'Achille Se si può dire La cosa negativa Che avresti migliorato Di questo EP Ok Allora di questo EP Come dicevo sicuramente È una cosa che mi sta insegnando Molto Milo Provare 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 le tracce Prima di andare in studio Perché Ok Riascoltandolo Mi vengono Delle idee Poi ovviamente A un certo punto Ti devi fermare Devi registrare Perché poi la mente Ti porta sempre a pensare Avrei potuto aggiungere quello Però provarmelo Di più Perché certe linee Sarebbero state Certe linee melodiche Sarebbero state Dei valori aggiunti In certe tracce E poi certe cose In fase di mix Avrei aggiunto Un po' più di effetti Ok L'avrei reso proprio Un po' più etereo In modo da Ah più etereo Quindi il mood Avresti un po' cambiato Sì avrei creato Un mood Con una voce Magari un po' più effettata Per dare proprio L'idea di Di pianeta Di pianeta Ho capito Una cosa Che ti piace tantissimo Di questa pitch Una cosa di cui vai fiero E dici Che è vero Ok Vado fiero che Ogni cosa detta Ha un peso E non perché io Mi sia Scervellato Ma semplicemente perché Il mio modo di essere Cerco di essere C'è autentico Come dice Quello che dice E quello che vuole dire Quindi l'obiettivo è raggiunto Sì Ok C'è l'autenticità È sempre stata Da me Da tutta original artisti Dalle persone che adesso Stanno girando attorno al collettivo Sempre l'autenticità Essere noi stessi E fare ciò che ci piace C'è quello che Che è la tua passione Veramente Seguirla Ok Ops Non importa Perché Non sono a scuola Siamo arrivati Alla fine di questa Analisi ecumenica Grazie mille Elti Fresh Lui è Steven Steven Vabbè NCC Studio NCC Studio Yo